Ciao amici benvenuti nel mio canale. Oggi condividerò per voi un nuovissimo video. Un'altra notizia è arrivata dai nostri giocatori di successo Ali Libraim Cheyan e Sila Turkoglu. Non dimenticare di iscriverti al mio canale per essere immediatamente informato sugli ultimi e nuovi post. Come il nostro video e condividere il nostro video per supportarci. Mentre la attrice turca Sila Turkoglu intraprende un nuovo viaggio romantico con il suo partner Alil, l'amore continua a sbocciare nella sua vita. La notizia della loro relazione è stata accolta con entusiasmo dai fan e dai media, che volevano saperne di più sull'amore in erba della coppia. Sila Turkoglu, nota per la sua impressionante interpretazione sullo schermo, ha conquistato i cuori con il suo talento e il suo fascino. La sua interpretazione di personaggi affascinanti in famose serie tv gli ha fatto guadagnare una fedele base di fan. Il fatto che Sila sia relativamente riservata riguardo alla sua vita privata fuori dallo schermo rende questa nuova rivelazione ancora più interessante. I rapporti indicano che Sila Turkoglu e Alil, che non è un nome noto, si frequentano da diversi mesi. Alla coppia piace passare del tempo insieme mantenendo la loro relazione fuori dai riflettori. La decisione di mantenere tutto segreto riflette il desiderio di Sila di mantenere e coltivare la sua vita amorosa lontano dagli occhi del pubblico. Con l'emergere della relazione, l'hashtag cancelletto Sila Halil Cifti è diventato una tendenza su Twitter. Con i fan che hanno espresso il loro sostegno e ammirazione per la coppia. Il punto in cui hanno condiviso la loro felicità sui social media per Sila Turkoglu e Alil. Per ora è tutto da parte nostra. Spero di vedervi in nuovi video e nuovissimi post. Arrivederci